L'impatto è stato violentissimo e non le ha lasciato alcuno scampo. È morta sul colpo Samantha Renon, studentessa 17enne di Cessalto, che alle 14.30 si trovava in sella alla sua moto in via Arzeri a Salgareda quando si è schiantata contro l'auto, una Ford Fiesta rossa guidata da un 35enne di origini albanesi. Sul posto ambulanze ed elicottero del suo M118, gli agenti della Polstrada e anche il sindaco, allertato da un residente che in un primo momento, accanto da alcuni volontari, ha deviato il traffico. Una bambina di 17 anni che non lo so dove andasse ovviamente, transitava di fatto da Arzeri verso il campo di Pietra e il signore invece che veniva da Salgareda ha svoltato e dopo le fasi dell'incidente continuava a dire che non l'aveva vista, che non l'aveva vista, ma così da quello che posso vedere tutti e due andavano piano, insomma è stata proprio lui continuava a dire non l'ho vista, non l'ho vista. La dinamica è comunque al vaglio della polizia, chiaro che si proceda per omicidio stradale in modo da non lasciare nulla di intentato. Samantha frequentava l'Istituto San Sovino di Oderzo, lascia i genitori Luca autotrasportatore, originario di Motta di Livenza e Diana impiegata di ragioneria per un'azienda. La famiglia ha vissuto tanti anni a Ponzano Veneto, comune di origine della madre della 17enne prima del trasferimento a Cessalto. Sul luogo della tragedia sono giunti sia genitori della giovane vittima che dell'automobilista, l'ennesimo dramma sulle strade della marca, un'altra ferita che si apre. Una tragedia per tutti, io da lontano ho visto anche, mi sembrava la mamma, sono sincero, io guardi, anch'io, vabbè, lasciamo stare, sono proprio... Sotto shock. Sì, mi dispiace davvero tanto.